Il Paradiso delle Signore, Adelaide sparisce, potrebbe essere a rapallo con lei. Che cosa sta succedendo ad Adelaide nel Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? Nelle puntate che si avviano verso il gran finale di stagione. Previsto per maggio, ci saranno grandi sorprese per quanto riguarda la sparizione della Contessa. Che riapparirà solamente negli episodi di settembre, dopo la pausa estiva. Stando alle anticipazioni, ci sarà un riavvicinamento tra Marcello e Ludovica. Dopo che la Contessa si sarà allontanata misteriosamente da Milano. Salvatore pregherà il suo amico di sempre di andarci con i piedi di piombo. Perché la sua ex fidanzata sta per sposarsi con Ferdinando. Ad allontanare Marcello da Ludovica sarà un inaspettato regalo da parte di Adelaide. Che riaccenderà la fiamma tra i due. Barbieri deciderà di partire alla volta di Lione, ma lo attende un'amara sorpresa. Nelle prossime puntate della soap opera, Umberto inizierà a preoccuparsi seriamente di quello che potrebbe essere successo ad Adelaide. Alla quale è inevitabilmente ancora legato, nonostante abbia scelto di stare con Flore. La stessa preoccupazione coglierà Marcello, che scoprirà le bugie della Contessa, non si trova a Lione per assistere la sua amica malata e fin di vita. Qualcosa di molto grave deve essere successo, anche perché Italo, custode di ogni segreto. Ha detto ad Adelaide di lasciare Milano da sola. Umberto riuscirà ancora una volta ad avere informazioni sulla Contessa e non perderà tempo a mettersi sulle sue tracce, tenendo all'oscuro Flora. Flora verrà comunque a sapere della decisione di Guarnieri e il fatto che abbia scelto di rintracciare la Contessa. Unito al fatto di non averle detto nulla, la getterà nello sconforto. Sui social circolano tantissime ipotesi sul segreto custodito dalla Contessa e non si esclude che nel finale del Paradiso delle Signore Sette Adelaide scopra che Margherita è ancora in vita scombinando le trame. Margherita potrebbe trovarsi a Rapallo, croce e delizia dei suoi ultimi giorni di vita. Che ha impiegato scrivendo i suoi segreti nel diario? La sorella di Adelaide ha passato molto tempo a Rapallo, Marta credeva che fosse per la sua bronchite cronica. Mentre Riccardo sapeva benissimo che la madre voleva stare separata da Umberto. Con il quale aveva un rapporto burrascoso. C'è sempre stato mistero sulla morte di Margherita e gli autori potrebbero aver optato per un colpo di scena da maestro per il finale di stagione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.